Benvenuti anche oggi sul mio canale. Oggi vi mostro come calcolare le misure per il top down raglan, cioè la lavorazione che inizia dall'alto verso il basso e precisamente dal collo, quindi dalla scollatura del collo. La prima cosa che dobbiamo fare è prendere una misura che non sia troppo larga, vedete come vi faccio vedere in foto, quindi una misura che sia abbastanza larga ma neanche troppo larga. Uno dei sistemi più semplici è quello di prendere la misura della circonferenza della testa, perché in questa maniera anche per i maioncini ad esempio che non hanno l'apertura, sicuramente prendendo la misura della circonferenza della testa non avremo difficoltà ad infilarlo. Nel mio caso io metto su 48 cm che è la mia circonferenza della testa. Dovete tenere conto di una cosa molto molto importante, che rispetto al tessuto la lana ovviamente tende a slabrare. Quindi anche se avete misurato la vostra circonferenza per esempio ed avete 55 cm, voi andate a mettere su qualche centimetro in meno, perché ovviamente abbiamo un'elasticità del filato diversa dal tessuto. Quindi io vado a mettere su i miei 48 cm con il filato che ho a disposizione, quindi non importa che tipo di filato abbiamo, può essere lana, cotone, cordino, insomma non ci interessa. Andiamo a mettere un numero di catenelle che deve corrispondere a 48 cm, nel mio caso sono 60 catenelle. Da questo momento in poi io terrei conto di questa misura, quindi non più dei centimetri ma delle catenelle. E questa è la prima operazione importante da fare. Ora state facendo il progetto per bambino, per adulto, per donna, non importa, questa sarà sempre la stessa procedura. Il raglan è ovviamente il top down, in questo caso è diviso in 5 parti, ovviamente non ci fate caso alla mia, al mio disegno che non è proprio del tutto perfetto. Questo sarà il dietro, questa sarà la spalla destra e spalla sinistra. E poi abbiamo ovviamente due davanti perché stiamo lavorando un cardigan aperto, quindi il progetto è per un cardigan. Ovviamente se stiamo lavorando un maglioncino questa parte sarà chiusa, ok? Quindi sarà un solo calcolo. Adesso per conoscere la misura, vedete, della spalla, quindi io devo andare a lavorare ovviamente un numero di catenelle e poi in questi punti, vedete, io dovrò fare degli aumenti. Ora come faccio a sapere quante catenelle per la spalla, per il dietro e per il davanti? Andiamo a fare un conticino abbastanza semplice, questa è una regola che potete anche annotare perché la sarà sempre la stessa. Andremo solo poi a modificare in base a quelli che saranno i modelli o i punti che dobbiamo effettuare. Allora, per conoscere la misura della spalla, io dovrò mettere le catenelle totali, quindi spalla uguale 60 catenelle, ok? diviso 5, 1, 2, 3, 4, 5, ecco perché divido per 5 e facendo diviso 5 il risultato è 12 catenelle, quindi questa parte dovrà essere di 12 catenelle, ok? Adesso il dietro, quanto deve misurare il mio dietro in catenelle, per il dietro? Catenelle totali, quindi le 60 catenelle, le dividiamo per 2, uguale 30. Alle 30 catenelle sottraiamo 12 catenelle, che è la misura di una spalla. Il risultato sarà 18, quindi il mio dietro avrà 18 catenelle. Adesso abbiamo bisogno di sapere ovviamente ogni parte del davanti quanto deve misurare. È chiaro che se stiamo lavorando un maglioncino chiuso, quindi dovrà avere solo 4 parti, il maglioncino, il dietro, il davanti e le spalle, io avrò le stesse catenelle del dietro, ma in questo caso è aperto. Quindi cosa faccio? Molto semplice, per il davanti farò il numero del dietro, quindi le 18 catenelle diviso 2 e avrò 9 catenelle per lato, quindi 9 catenelle di qua e 9 catenelle di qua. Ed ecco che io ho praticamente diviso il totale delle catenelle. Ovviamente nel mio caso le mie catenelle sono pari, quindi ho potuto, vedete, dividere senza alcun problema, senza eccesso i miei centimetri. Ovviamente nel caso voi andiate a dividere, e faccio un esempio, vi risulta che se il numero che avete diviso 5 viene per esempio 12,8, voi per eccesso ovviamente arrotondate a 13. La stessa cosa su qualsiasi misura. Se ad esempio vado a fare un numero diviso 5 e mi viene 12,2 per esempio, io metto 12 catenelle. Quindi praticamente quando in base al numero che vi andate a trovare per eccesso, se è per esempio, virgola 8,9, arrotondiamo con il 13 ad esempio. Se abbiamo 12,1,2 ovviamente ci manteniamo e arrotondiamo sul 12. Questo è più o meno il calcolo che dovete fare. Quindi se noi adesso andiamo a sommare tutti, 9, 12, 18, 12 e 9, abbiamo un totale di 60 catenelle. Ovviamente a queste 60 catenelle dovete aggiungere o una catenella per girare se lavorate a maglia bassa, oppure dovete aggiungere 3 catenelle se lavorate a maglia alta, ok? Che sarà il primo punto, 2 catenelle scusate, 2 catenelle, perché la sessantesima catenella, ok? Dove voi iniziate a lavorare, sarà praticamente la prima maglia, perché noi entriamo sempre a maglia alta nella quarta catenella dall'uncinetto, ok? Quindi calcolando che entrate dalla quarta catenella dall'uncinetto, lavoreremo 2 catenelle per la maglia alta, quindi aggiungiamo le 2 maglie alte. Poi ovviamente in base ai punti voi vi andate a regolare. Questo conticino è il classico conticino per avere praticamente sempre le misure per il nostro top down raglan. Io spero che questo piccolo schema vi possa essere di aiuto, così ogni volta che io vado a lavorarvi una lavorazione, ovviamente un modello top down, voi sapete come dovete calcolare e così avrò un tutorial, ovviamente un video di riferimento per le spiegazioni. Vi ringrazio sempre perché mi seguite e vi saluto rimandandovi ad uno dei miei prossimi tutorial. Vi ringrazio sempre per la visione.